He lost my car No 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 su rimettiti bene Andate avanti vai vai andate Giovi è il primo Stefi un po' più veloce per favore Ok ok Proseguiamo Nel fiume Chi è che mi ha dato una spinta grazie 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 Non ho visto il nome ma ti ringrazio Ok proseguiamo Con bel check Wow che spettacolo Bellissima questa gara Cosa abbiamo qui Dobbiamo camminare Sempre qua Oh sui 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 Serve rincorsa vero Credo di si Raga datemi una spintarella pure a me va Una spintarella pure a me nessuno me la da No raga nessuno nessuno Ok aspettate Ce la fai sui ora Si che ce la fa Ci siamo Così do Non metrò là No no non voglio tornare indietro io Perché stava tornando indietro raga Non ce la fa salire Date una spintarella a me Grazie Si 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 va No No trollato no eh Trollato no Raga ci sto io qua eh Prima arzuino E poi gli altri Pasqui cosa sta facendo là Raga per favore Non mi chiedete niente Io so solo che qua La primera posizione ce la sogniamo eh Ma vai che c'è un parkurito Perché nella miniatura ho visto un bel parkurito Scusate un attimo Respawniamo un attimo Ah si respawna da qua Eh ma se arrivo là non sono invisibile Si sui Mamma mia mamma mia mamma mia Ci siamo ci siamo ci siamo Prendi il check Ok Ottavi Bella posizione No 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 Ok Andiamo Mamma mia che casino Un inizio leggermente trolloso eh No dai soli soli per favore Monster non ti spegnere però Si è spento Si è spento raga credo di si No 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 Allora Oh sui Ok 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 ci siamo Proseguiamo Mamma mia che fiume troll Ok Andiamo 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 regà Quando finisce questo fiume Ok Dario è un po' trollato qua Sui ti do una mano io dai Muoviti sui No regà pure a me mi serve una mano Ce la fa salire No si spegne Si spegne il monster truck Dove passa lui non lo so regà E come facciamo noi Così Facciamo esattamente così Ok come noni Chi è che mi ha superato Regà dove sono gli altri Dove sono Non ci voglio credere eh Questa era una gara da fare Senza collisioni E' divertente con collisioni L'unico problema è che si spegne pure il monster truck Non ci voglio credere Io spero tanto che ha messo un parkurito impossibile Così almeno La si recupera Se si recupera Ok Oh finalmente Regà un miracolo Vedo una mica rampa E una cappa tra un lato Saliamo su Ok ok ci siamo Quanti secondi di stacco da gioia Un minuto e trentasette Il secondo è Lorenzo No regà Flippiamo pure Cosa c'è qui Siete tutti qua No C'è Gabricol Il creatore Del parkuritos Sui scusami Vado un po' di fretta Chi era stivino Sui scusami Veramente E' che Sono un po' frettoloso Terzo Wow C'ha un po' di odio Regà Devo dire Che sono veramente felice Qui andiamo leggermente piano Perché Non voglio rimanere Trollato Ok Regà Giriamo Adesso Ok sui Piano piano Steffi eh Che qui La situazione È leggermente troll Sui Ok sono vivo Sono vivo Ho fatto qualche piccola manovra Ma ci siamo Regà che concentrazione Potete capire Ok ok Ah al massimo Qua che c'è un bel check Ok Eh si Terza posizione Cos'è qua Aspettate aspettate Quanto è rivido Ce la fa salire Sì Eh Ora dobbiamo girare qua Ok Oh eccoli qua Che state a fare là C'è Giovi che Sta trollando tipo lori Saliamo su Regà vi ringrazio eh Oh no su che casco io eh Ma Giovi cosa sta facendo Vuole trollare a me A lori Non lo so regà Ma deve fare in manovra No su che caschi di sotto Gli altri dove sono Lì Trollati Wow Guardate Questa avevo visto Nella miniatura C'è questa spirale Fatta di Coca Cola Saliamo su Ok 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 Ci siamo Credo di sì 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 Siamo vivi Lori vieni qua Dove scappi Prendiamo questo bel check Ok Qui cosa bisogna fare Bisogna saltare La rincorsa va bene Sono dritto Sì Saliamo su Mamma mia che spettacolo Andiamo Disattiviamo un attimo Rockstar Editor Perché Qua si bugga tutto Eh vado i rockstar Editor Ok 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 Saliamo su Tranquillamente Ok Bella questa salita Fantastica Ma si può andare più veloci? No perché comincia a rimbalzare Come vedete Ma Lorenzo dove sta? Che velocità ha preso? Eh sì si può andare al massimo Guardate Eh però Dove un po' si ferma eh Ok io sto andando al massimo Cioè praticamente Ok ok regà Aspettate 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 No 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 regà Non ciò io crede Non ciò io crede Non ciò io crede Non ciò io crede Non ciò crederò mai Non è possibile una cosa del genere Come ho fatto a trollarmi In quella maniera Non lo so Non ho Idea Sì Cosa è successo Aspettate Io l'avevo detto regà Qua la prima posizione È un po' trollosa Cioè per colpa mia eh Perché E non so le più Cosa sta succedendo qua regà Aspettate eh Perché qui la situation È veramente strana Ok Oh sì 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 Sono vivo Guardate dove sta lui regà Non ciò io crede Andiamo Mannaggia a me eh Cerchiamo di andare moderati eh Terza posizione Qualcuno mi ha pure superato E vabbè regà È importante È un bel podios eh Sali sali sui Bello veloce Non cascare di sotto eh Come ho fatto a cadere prima regà Non lo so perché Stavo andando al massimo Perché volevo vedere Se si poteva andare al massimo E quindi sono rimasto Trollato Come quinto No regà Impossibile È il check Credo proprio che sia il check Sapete Ok Dai ci siamo quasi Mamma mia che salita Ok ok Cioè io sono cascato all'ultimo Che posizione Non credo Quarto eh Se è qui se non salta Ho preso il check Zitti tutti eh Regà Scusate ma ci sono pure i fuochi d'artificio Ok Guardate che spettacolo qua Scendiamo giù va Wow Bellissima questa parte Quanti secondi da lori Un minuto e trentaquattro Però di solito nei parkouriti Non è così lontano eh Credo Invece credo che sia lontano Perché Quella salita con la coca cola Mi ha Veramente trollato E ciò viene il secondo Ok Andiamo Cosa abbiamo qua Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Ok Ci siamo Andiamo per di qua regà Wow 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 Siamo vivi E proseguiamo Mamma mia che casino I fuochi d'artificio Regà Fuoriosa mia Ok Va bene Sì che va bene Dai questa parte È abbastanza facile Sui però Un po' più veloce Per favore 8 minuti di parkourito Un parkourito un po' trollato eh Eh sì Purtroppo sì regà Ok 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 Qua bisogna stare dritti Sì Saliamo su No Volevo flippare Ma è meglio di no Ok Che stradina Spettacolare Andiamo Facciamo attenzione qua Che c'è rischio Che ci trolliamo eh Dove sono loro Dove sono loro regà Credo che sono al trequarto Se non mi sbaglio eh Credo proprio di sì Ok Mamma mia Ci siamo Ah e poi c'è la prima Ah e poi c'è la prima posizione C'è la terza scusate Ho sbagliato Saliamo su Dove siete No regà andate eh Andate a concludere che io Ho guadagnato un bel po' Odios Vai andate regà Bella pure questa salita Dai Allori Non trolla Giovi L'orebbi Adesta Primera posizione Sui Ok Regà me la frego io eh Non voglio Sì sì Me la frego io Me la frego io Loricori che te frega La primera posizione Se non te sbrichi Te frega la primera posizione Veloce 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 Sui No io ho fregato La seconda Giovi Scusami Giovi Comunque sia Se vi è piaciuta la gara di Gabricol Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passatevi al mio secondo canale Big Pork Salute sui Inicbali Grazie a tutti